Cosa vuole dire agli studenti che affronteranno questo esame fra qualche settimana? Di affrontarlo penso con molta tranquillità e comunque con la giusta tensione perché è un esame per loro importante. Adesso stiamo verificando gli ultimi dettagli ma siamo pronti. Ministro, vi chiedo un commento sulla sentenza della Cassazione in merito alla Cannabis Light. Oggi è la giornata contro il tabagismo, ieri si può dire sia stata la giornata contro la Cannabis Light? Io sono contento di questa sentenza. Però tutte le persone che magari hanno aperto negozi in questi anni, che hanno avviato appunto questa attività che rischiano dall'oggi al domani di ritrovarsi senza più la possibilità di fare impresa, senza più un lavoro? Questo è un problema che riguarda un altro aspetto. La sua domanda era rispetto all'uso delle droghe, ci mancherà anche della commercializzazione, della legalizzazione. Grazie!